Facciamo questa giornata con tutti i ragazzi che andranno alla Cresima per aiutare a capire anche una dimensione più ampia del sacramento, perché il sacramento non ha solo una dimensione personale, il passaggio verso l'età più matura, un momento di impegno nella vita personale, ma è anche un ingresso nella vita della comunità cristiana più ampia che è la diocesi, non solo la propria parrocchia. Per questo facciamo questo momento diocesano dove sono invitate tutte le parrocchie e tutti i Cresimandi che vengono infatti dalle varie parrocchie per mettere in luce questo inserimento dentro il cammino di tutti i cristiani che grazie al sacramento della Cresima, con il dono dello Spirito Santo, sono poi chiamati a dare una testimonianza forte ma anche unita, comunitaria della loro fede. Abbiamo ragazzi di 44 parrocchie della diocesi, sono quindi circa una metà, oltre alla metà delle parrocchie della diocesi presenti, con diversi numeri, evidentemente parrocchie grandi, parrocchie piccole, siamo circa 650 quest'anno ragazzi e abbiamo circa una copertura dei tre quarti dei ragazzi che ricevono la Cresima nelle prossime settimane.